Ok amici, sono con Flavio Annibali, mazzo di carte sempre qua in vista vicino alla chat in modo che vedrete tutto e chiedo a Flavio una carta, vai. Chiediamo una carta da gioco a Flavio Annibali, che chiaramente ha accettato di fare questo effetto tramite Facebook, ok? Il mazzo è qui ragazzi, spero che mi metto vicino a favore di casa, sto riprendendo, sono in live diretto, ok? Allora, una carta, vai, sto registrando, ecco sta scrivendo. Vediamo la carta che scrive, asso di cuori, numero 12, quindi ragazzi ha detto asso di cuori numero 12. Io scrivo anche se vuole farlo più piccolo. Ottiva bene. Ha cambiato, ha cambiato con, ragazzi, spero che si vede bene, con 9, si vede? Ok? Questo è importantissimo. Ora qui ho il mazzo di carte ragazzi, eh. Andiamo a esattamente... Pazzesco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... E la nona carta, asso di cuore. Grazie al nostro Fabio Annibali.